La coppia è stata colpita da false affermazioni secondo cui il loro matrimonio è in difficoltà. A partire da quando hanno deciso di affrontare separatamente le iniziative imprenditoriali. Il principe Ferri e Meghan Markle, sono stati colpiti da false voci secondo cui si sarebbero lasciati dopo alcuni mesi difficili, per il marchio del Sussex. Mentre gli amici della coppia hanno detto a Page Six che le notizie sulla loro separazione sono non vere, e letteralmente inventate. I commentatori hanno notato che Meghan non si è unita a Ferri, per il tour promozionale del suo libro di Memorie Spera all'inizio di quest'anno, da allora la coppia sembra intraprendere più progetti separatamente dopo che il loro accordo con Spotify è terminato il mese scorso, con Ferri che ha detto di essere in viaggio in Africa per la sua avventura con Netflix. Alcuni hanno affermato che Meghan era preoccupata per alcuni dei dettagli che Ferri ha incluso nel suo libro, che ha rivelato i suoi rapporti travagliati con molti membri della sua famiglia. Una fonte ha detto a The Telegraph. E' così che avrebbe affrontato le cose? Forse no, ma lo sosterrà sempre e non si sarebbe mai fatta coinvolgere nella promozione di un progetto così personale. Hanno aggiunto, si trattava della sua vita, del suo viaggio e della sua prospettiva. Il duca è stato allontanato dalla sua famiglia da quando la coppia si è trasferita a Montecito in California, dove stanno crescendo i loro due figli, il principe Arci, e la principessa Lilibet. Ferri ha fatto il viaggio di ritorno a Londra per l'incoronazione di re Carlo a maggio. Ma Meghan ha scelto di non accompagnarlo, con alcuni che lo hanno indicato come un altro segno di scisma tra di loro. Tuttavia è più probabile che desiderasse restare con i suoi figli poiché il quarto compleanno di Arci cadeva lo stesso giorno dell'incoronazione, il 6 maggio.